ciao amici punti esclamativi stai guardando Flavio che cazzo è quella roba ma è Death Note non è L gotta go fast gotta go fast è bello come suono sia l'unica parte tradotta no scusa se ti ho fatto aspettare L allora analizziamo bene non c'è la maiuscola a posto del punto c'è la virgola benvenuto nel mondo dei e sono un professore di pokemon come tu sai ti abbiamo chiamato per far luce sul mistero delle sparizioni dei pokemon sono sicuro che lo risolverai ti presento un essere di questo mondo eccolo questo è un pokemon questo è un pokemon le persone abitano con i pokemon o combattono bene ma dimmi eh 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 clavio ma tu non commenti se dovessi commentare direi cose che poi youtube ci fa a toglierc ma dimmi un po' di te anche se sei incognito nome GINA! gina e questo dovrebbe essere misa chiamiamola gina per favore di acqua lì che cazzo quello è il tuo nome quello è il tuo nome cosa non ti fidi non sono mica kira io non sono mica kira oriama beh cos'è no no non metta nel mister che ha fatto ma cos'è l'hanno riporto da final fantasy per gb a credo ci vuole un nuovo nome Flavio no si ok non lo rivelerò ero a nessuno sai cosa mi ricorda parliamo correttamente di videogiochi bene si ti muoverai nella mia città natale ora tocca a te far luce al mistero quale? i dominati sei pronto L? un pacco un pacco no aspetta ci sono altri ti vuoi salvare comunque? non spegnere la console xd L sei arrivato finalmente sei arrivato come è stato il camion? Flavio ma come è stato il camion secondo te? usca lo so non è come le tue solite limousine limousine non penso si scriva così appunto non si credo questa è Little Little Root Town ti piace? questa sarà un accento giusto complimenti guinness world record questa sarà la tua nuova casa fino a Kundo ecco basta abbiamo usato ha già finito il suo momento di gloria basta rovagnati guarda rovagnati guarda quei poveri pokemon sfruttati per la società e vende bambini vero è comodo vero vende bambini poveri però è comodo vero l sali le scale e metti a posto l'orologio roger è a poche città più avanti ora vai l'orologio è vero inizia pozione la batteria lo fa funzionare bene la batteria lo fa funzionare che ore sono? e me lo chiedi anche? eeeh smokey every day allora ti piace la tua nuova camera? bello una frase con aaaah la crusca cioè praticamente l'impatto è stato così forte da farti cadere le cuffie esatto ok scendi le scale sta per iniziare deathknot punti esclamativi amici amici Flavio è presto veloce veloce guarda aaaah fermate il tempo vi prego guarda hanno tolto l'episodio numero 87 di deathknot per un import importante dichiarazione da roger ma chi è il roger? è roger rabbi e così siamo venuti a sapere che mello si è unito alla mafia bene oh no è finito roger ha detto poco fa che mello fa parte della mafia potrebbe esserci lui dietro tutto questo ah sì dimenticavo un amico mio è di roger vive qui a fianco sì tu sei hell il più grande detective del mondo wow il grande L è venuto a Heon Non mi aspettavo Che tu fossi qui Un congiuntivo? Cosa? Cosa? È una rara forma di congiuntivo giusto Piacere io sono Misa Amane E sono una tua ammiratrice Adesso devo andare ma spero di vederti presto Ciao C'è qualcuno che urla Aiuto Puff Certo che avevate ragione Solo che purtroppo ho fatto un errore Ho lasciato scappare questa ragazza Poiché solo quando lei sarà morta Io andrò al potere Dimitri Fai qualcosa Andate tutti all'inferno Al Sosha No non è una palla È una bomba Fermati Sosha Vattene stupida bestia Al che cosa fai? Aiuto Aiuto Buff Ehi tu aiutami Nella mia borsa ci sono tre pokeball No pokeball Pokeball Ora abbiamo Due pokeball Che scelta Big choices Ok abbiamo Abbiamo L Abbiamo L L L Chi scegliamo? N L Mamma mia che paura Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ho lasciato la la borsa con le pokeball perché mi aspettavo che non Gina confirmed Gina confirmed Amici Un momento Tu sei L Sì e lei è Birch vero? Sì sì sono io ti stavo aspettando Sì 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 Continuiamo la conversazione Nel mio laboratorio ok Best laboratorio ever Gia che c sei Vuole il mio pronome si Flavio M No Cholk Cholk Sì Ma ha detto proprio Così Con la c I'm really feeling it Oh che bello Walk through walls Manco forse l'action replay per il DS Sì No no uffai Anche oggi ci sono pochi pokemon E Ciao 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 E non sa ancora l'alfabeto poverino Cosa Birch è dato un po' Bene allora E' il più forte C'è per ogni accento giusto Ne sbaglia altri 5 Non è ancora finita Aspetta L Così inizi a investigare Perché ci metti la cento dove non deve essere messo Bene sono più che sicuro che Risolverai questo mistero Ma ora L'unica cosa che ti posso dare è Questa torta Energizzante Energizzante La torta energizzante Grazie a questa torta E se la mette ai piedi B andrai più veloce Sì Amici Ok è giunto il momento di separarci A presto Yuzaki Beh io penso che se manually vedesse questa cosa L'unica cosa che potrebbe dire Sarebbe Ai 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 Ha ragione Praticamente questo gioco è E ne va a pesare Un L'idea di Oyabue Materializzata Ah Giusto Broncia filthy frank Yes Benichiao Si A casa